Ehi, l'esperimento ieri di registrazione, stando al tavolo della cucina mentre vengo inondata dal sole che entra dalla finestra e bevo la mia tazza di caffè lungo all'americana, sotto lo sguardo vigile di Mazinga, il gatto grande, o Sputnik, il gatto più piccolo. Ho deciso di ripetere l'esperimento perché non ho voglia di andare nella stanza dove ho messo su il mio studio di registrazione perché è dall'altra parte della casa e lì il sole arriva di pomeriggio, quindi adesso non c'è il sole. E sinceramente sto così bene al sole che si è deciso di rimanere qua. Di cosa vi voglio parlare oggi? Voglio parlare di una cosa che mi ha colpito e mi ha fatto ricordare di una cosa letta molto tempo fa. La cosa che mi ha colpito è un nuovo podcast della BBC che si chiama Vishal, vi metterò il link nelle note del programma, e racconta la storia, io non conoscevo questa storia, di questo bambino che il giorno del matrimonio di Prince Charles e Lady Diana, quindi parliamo di una quarantina di anni fa, è andato con la sua famiglia. Lui era un bambino, è andato con la sua famiglia come tutti gli altri a vedere il passaggio della carrozza, salutare eccetera eccetera, e questo bambino si è perduto nella folla. Ora non ho ancora iniziato ad ascoltare il podcast, quindi non so se sia stato ritrovato, cosa sia successo, di cosa parla il podcast, però mi ha portato alla mente un'altra storia, questa volta fittizia, che avevo letto un bel po' di tempo fa, in un libro di Alex Garland. Alex Garland è l'autore che io ho conosciuto con il libro bellissimo The Beach, l'ultima spiaggia in italiano, che poi il suo secondo libro era The Tesser Act, che in italiano è stato pubblicato col titolo Black Dog, e che parla di questo ragazzino che viene da un paesino dell'entroterra, penso fosse del Sud America, e va col papà nella città principale, al mercato, e lì mentre è col papà nella città principale, il papà muore, gli viene un infarto, non mi ricordo, e questo bambino si trova da solo in questa città, e naturalmente è molto piccola, ha 3-4 anni, quindi non sa neanche il suo nome, non riesce a esprimersi, e racconta il libro, la storia di questo uomo ormai adulto, che vive in questa città, l'unica cosa che si ricorda è che è stato lì col padre, il padre è morto, e lui non ha più nessun legame con la sua famiglia. È una situazione che, mentre leggevo il libro, mi aveva veramente incuriosito e anche inquietato, perché se ci pensiamo, sono molte le occasioni in cui noi, anche quando siamo in vacanza, magari siamo piccoli, non abbiamo i documenti, e potrebbe succedere qualsiasi cosa, e potremmo veramente ritrovarci abbandonati in una città dove nessuno ci conosce. È una cosa molto inquietante. Vi metto il link, e i libri sono molto belli, e l'autore ho scoperto, poi è diventato super famoso.